Se davvero volete sentirne parlare, la prima cosa che vorrete sapere sarà dove sono nato e che schifo di infanzia ho avuto, e cosa facevano e non facevano i miei genitori prima che io nascessi, e altre stronzate da David Copperfield. Ma a me non va di entrare nei dettagli, se proprio volete la verità. Primo è roba che mi annoia, e secondo avrebbero un paio di ictus a testa i miei se raccontassi i cazzi loro. Quindi boh, questa è la mia storia. Salli, come stai? Come stai? Va bene. Come stai? Benone, benone. Senti, ti andrebbe di uscire? Non è quello che è. Mi immagino questa, tutti questi bambini che giocano a qualcosa in un campo di sedare e via dicendo. Migliaia di bambini, e tutti questi bambini, io sono l'unico prodotto, che sono lì, sul loro di questo precipizio, e ad acchiapparli se corrono verso di me, se corrono verso il precipizio, senza guardare. Sarei l'acchiappa bambini nel campo di segale. Sogni d'oro imbecilli. Sarei l'acchiappa bambini nel campo di segale. Sarei l'acchiappa bambini nel campo di segale. Grazie.